Maurizio, lei ha presentato un'interrogazione e ha chiesto una risposta scritta e orale perché negli ultimi giorni è venuto fuori il problema dell'ufficio del giudice di pace ad Alcamo Beh, in realtà è una problematica che ad Alcamo ormai esiste da un po' di tempo e noi siamo sempre stati molto attenti nella speranza di ottenere soluzioni e devo dire che onestamente riparlare, ridiscutere su questa questione onestamente un po' mi dispiace perché speravo che già a questo punto potessimo avere delle risposte certe le problematiche sono sostanzialmente sempre le stesse mi riferisco alla struttura dove è allocato l'ufficio del giudice di pace ad Alcamo che adesso è a gestione comunale ormai da qualche anno e soprattutto la questione del personale di cui evidentemente l'amministrazione è al corrente C'è anche un problema di riscaldamento, una lettera degli avvocati ha fatto sollevare la questione Sì, ritorniamo alla problematica della struttura in questo periodo un po' più rigido la struttura non è assolutamente pronta a sopperire alle esigenze del freddo che poi alla fine da noi non è nemmeno tanto però capisce che per i lavoratori, per gli avvocati, per l'utenza fare attività di evidenza in una situazione di difficoltà evidentemente non è il massimo ma il problema più grave secondo me, a parte questo che va risolto, quello del riscaldamento è il fatto che si costringe ad oggi in un locale che secondo me ha pure delle difficoltà di sicurezza molto stretto, inadeguato, dove sostano nello stesso corridoio avvocati, utenza, testimoni, consulenti credo che si debba trovare sicuramente delle soluzioni differenti anche la questione del personale si rischia sostanzialmente di arrivare anche a contenziosi contro il comune il personale che di fatto ad oggi lavora all'interno del giudice di pace è un personale che ha un contratto a tempo parziale che non può coprire di per sé tutte le ore di apertura dell'ufficio questo ha portato negli anni appena passati a uno sforamento delle ore lavorative e l'amministrazione ha più volte provato a risolvere questa problematica senza mai ottenere un risultato oggi per il 2017 abbiamo ancora la stessa problematica al punto che i lavoratori minacciano, fra virgoletto, chiedono di essere autorizzati a tenere chiuso l'ufficio addirittura il sabato questo comprenderà che crea delle difficoltà proprio nello sviluppo dell'operatività dell'ufficio per gli avvocati che devono depositare documenti ma anche per l'utenza che può avere difficoltà e la richiesta l'avrà la risposta scritta? spero proprio di sì ma vai da quel che mi interessa è sostanzialmente che oltre alle parole seguono i fatti non è pensabile che su una questione così importante su un servizio prodotto e fornito alla città di Alcamo si discuta e purtroppo ancora oggi non abbiamo risultati grazie 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 grazie